Scandalo ad avanti un altro. È successo nella puntata dell'11 febbraio 2019, e tutti i telespettatori a casa, sono rimasti senza parole Ma che cosa è successo? Cosa ha suscitato tanto clamore tra il pubblico? La presenza in studio di due donne famose che, però, guarda caso, tre giorni fa sono state arrestate. Il fatto è grave, senz'altro Ma una spiegazione c'è, avanti un altro è un programma registrato e quindi ciò che è andato in onda nella puntata di lunedì-11 febbraio non è successo l-11 febbraio ma prima A ogni modo vi spieghiamo i fatti. Chi ha visto la puntata di avanti un altro andata in onda lunedì, si è accorto che sono apparse sullo schermone gemelle Alessandra e Valentina, 39 anni, in arte Pamela e su Ellen Chi segue avanti un altro, sa che quelle due sono volti noti al pubblico. Ma in che altro contesto le abbiamo viste? Le abbiamo viste nel film come un gatto in tangenziale, pellicola nella quale interpretavano due gemelle che rubavano nei negozi Ma quella non era un'abitudine che le due gemelle avevano solo sul set no. Lo facevano anche nella vita fuori dal set Questa estate erano state denunciate per un furto in una profumeria di Roma. Ma la lezione non è loro bastata E sono state beccate nuovamente a rubare. In quest'ultimo caso il bottino, sottratto a un negozio dell'Euro, ha un valore di 5.000 euro Le due gemelle sono dunque state arrestate. Ed ecco lo scandalo ad avanti un altro Perché le due gemelle, che alle 11 febbraio erano già state arrestate da tre giorni, sono comunque apparse in televisione Sì, la puntata era registrata, ma il pubblico non ha potuto non notare la loro presenza, le due si trovano attualmente agli arresti domiciliari che, ovviamente, non sono stati in alcun modo violati da Mediaset Ma è normale che la cosa sia saltata all'occhio. Quando la puntata fu registrata, non era ancora successo nulla Però, certo, Mediaset avrebbe potuto fare un po' di attenzione a quel dettaglio che il pubblico non ha gradito molto, qualcuno si è chiesto se sia stato il caso mandare in onda la puntata nella sua interezza Ma... Forse sarebbe stato meglio se avessero tagliato, no? E voi che ne dite? Cosa sarebbe stato giusto fare? E soprattutto, quando avete visto la puntata come avete reagito alla loro vista? .